facciamo la chiusura nostra solita che ha il rito nostro del cambio di strumentista ringraziamo tutti di essere stati qua con noi fino alla fine a noi piace suonare perciò è la più grande soddisfazione vedere qualcuno che ti batte le mani che siano 10, che siano 100, che siano 1000 non cambia niente ascolta niente poi dopo noi chiudiamo sempre con la nostra formulina anche questa a prescindere da quanta gente è presente diciamo noi ci siamo divertiti se qualcuno non si è divertito che si fotta grazie a tutti 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 grazie a tutti